Ok, io l'ho sistemato Adesso gli metteremo la tutina Cioè la tutina, la salopette Ecco qua Questa salopette ha due bottoni Io glielo lascio al primo Perché tanto sennò gli viene gigantesca Quindi già così è abbastanza grande Quindi così va bene E questo qui è un completino Cioè Sono stati presi assieme Infatti anche questo è sempre della early days Tra sei mesi come quell'altro Perché sennò un completino appunto Adesso gli infiliamo i piedini Primo piedino Secondo piedino Eccoci Adesso Opa Ok Ok Allora Comunque intanto che lo resto Vi volevo ricordare Di condividere il video Con i vostri amici Perché Se arriveremo ai 10 iscritti Vi svederò la super sorpresa Che appunto Farò vedere sul canale Ai 20 iscritti Quindi mi raccomando Condividetelo Fate scrivere ai vostri amici Ok Ok Ehm Allora Il piccolo Marco È un po' fame Adesso Quindi a dopo Ok Ho preparato il latte In questo bellissimo solito biberon Della Neo Baby Con questi disegnini Molto carino Allora Intanto che gli do il latte Vi volevo dire Che questo video Sarà suddiviso In varie parti Perché se no Verrebbe troppo lungo Quindi Quindi Niente Questo Ok Marco Sta bevendo il suo latte Ok Adesso Ehm Niente Vi saluto Ehm Ci vediamo Alla prossima parte del video Ciao Ciao